Il big match, il classico, vede subito Leocomotive andare in vantaggio, un gol fortunoso perché la palla si impenna, esulta, non batte dal 2006 il suo avversario, il palo, l'inizio è sfolgorante davvero di Leocomotive che attacca, continua a concludere verso la porta di un lotta continua in giornata no evidentemente, ci prova lotta continua, due occasioni anche per lui, una il palo potrebbe essere l'1-1, non è così ancora, buon momento, buona fase questa ma arriva la reazione di Leocomotive che trova anche il raddoppio, una palla che si impenna, c'è il 2-0 e allora la partita prende decisamente una piega, quella di Leocomotive che attacca da posizione diagonale, trova anche il terzo gol bellissimo con una fiondata così come il quarto, forse ancora più bello, imparabile per la lotta continua, Leocomotive rischia addirittura di segnare anche il quinto, arriva la reazione sul finale, finisce così non c'è partita, Real Tarallo va subito in vantaggio contro Von Sporting Doping che cerca di opporre resistenza come può, qui il palo, poi l'intervento del portiere, bellissimo l'aggancio e poi il gol imparabile sotto il set da parte del Tarallo per il 2-0 qui la palla non è entrata probabilmente tutta ma viene chiamata ancora una volta il gol attenzione agli arbitri perché questo probabilmente non era gol Tarallo che non ha bisogno naturalmente di quella rete perché continua a segnare e a concludere verso la porta di Doping, finisce con un risultato pesantissimo Atletico Bolis, una saetta incredibile, uno dei tiri più potenti visti sui campi dell'Affsal, guardate l'abbiamo rallentato tantissimo ma è già in vantaggio contro Sleepy United arriva il raddoppio immediato, lo United non riesce a porre resistenza prova, abbozza una reazione, colpisce anche il palo, sfortunato qui un'occasione ancora per Bolis, qui grande numero del portiere a togliere una palla che sembra quasi entrata ma l'abbiamo rallentata più e più volte fermo immagine, qui sembrerebbe fuori di poco la palla Sleepy trova però il 2 a 1, meriterebbe quasi anche il pareggio nel finale per la grande reazione di orgoglio ma Bolis è in grande condizione È 0 a 0 il derby dell'81 ma le emozioni non mancano, l'inizio è tutto di marca Canalis che si costruisce diverse opportunità, qui il diagonale è difficile però concludere in questa maniera, grande parata di Novegolo che si ripeterà poco dopo qui intanto c'è il palo, viene divelta la porta da parte di Canalis poi la reazione di Novegolo, il secondo tempo è suo, un tempo per parte questa è la grande parata perché la palla non tocca il palo, è proprio l'intervento con la stecca del portiere Minisce 0 a 0 Canemacchina subisce l'inizio vehemente di Crazy Lift che colpirà tantissimi pali giocando un gran match La reazione di Canemacchina con un paio di conclusioni la prima fuori dallo specchio della porta, la seconda che va sul palo sempre però Crazy Lift ad avere le migliori occasioni un altro palo, il secondo della sua partita la reazione a colpire lo stesso numero di legni anche da parte di Canemacchina qui grande intervento il portiere di Canemacchina a sventare il gol sempre Crazy Lift con le migliori occasioni e poi legge del subuteo il calcio è questo, vieni punito se non assegni Canemacchina si costruisce una grande azione con l'aggancio poi il tiro sotto la traversa il miglior tiro della serata da parte sua 1 a 0 Crazy Lift ci prova ma non riesce più a ribaltare colpendo un altro palo il risultato